l'ultimo unboxing di questa giornata a stress ragazzi 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 cosa c'è? avete la sorpresa del acquario che andrà messo qui in questa bellissima stanza e questo è pagato soltanto 40 euro un filtro acquistato su Amazon la marca è buona e ve lo consiglio per i vostri acquari questo filtro Eden 511 fino ai 120 litri vi dà la possibilità di non lasciare il filtro interno dall'acquario che rimane una cretinata ma mettere questo filtro esterno che poi viaggia a una potenza assurda perciò filtro esterno che è davvero molto molto utile è il nostro acquario il nostro nuovo acquario che è questo che vi ricordo filtro esterno mobiluccio mi sono dimenticato a farvelo vedere vabbè mi è imballato mobiluccio filtro esterno e acquario ragazzi la vostra sorpresa per questa stanza che andrà messa lì sicuramente è arrivata è tutto e ci vediamo in un prossimo video comunque ragazzi stiamo facendo cose scioccanti e video davvero divertenti insieme a Filippo comunque Filippo ci ha sfidato a puro football con un altro ragazzo che saluto Antonio giocheranno un coppia quando me e Giuseppe sono davvero in ansia speriamo che vinceremo ci vediamo ad un prossimo video bella ragazzi